ciao ragazzi quindi oggi c'è un super aggiornamento sul sito del tai chi per la salute quindi abbiamo le nuove magliette le polo ci sono capito cioè sembra un vero big business cioè comunque una cosa che sta funzionando mi sto emozionando chiesi poi ci sono tutti peluche adesso c'è un big up play un altro polo guanno c'è anche un altro polo cioè abbiamo due polo tre polo ragazzi cioè ma incredibile quattro cioè c'è anche questa incredibile super upgrade guardate questa sembra proprio una del tai chi per la salute professionale poi abbiamo il patrio che praticamente sto mettendo professionali abbiamo principianti poi abbiamo la musica che comunque non la mando a tutti quanti io questo nel patrio poi tutte le lezioni le ho messe sul patrio adesso perché io sono amico comunque le faccio gratis quindi adesso se volete le stesse lezioni è entrato sul patrio e c'è un costo che mi sembra giusto dopo tutti questi anni questo è il primo flash mob che abbiamo fatto con questo Roberto Clea comunque questo lo potete vedere senza pagare però le altre il corso approfondito c'è un costo che non è chissà quale è elevato e poi in anteprima mondiale io ho fatto una cosa stamattina cioè ho tradotto per la prima volta nella storia in italiano il corso del Tai Chi for Beginner di Dottor Porlan quindi voi entrate nel patrio praticamente c'è il corso di Dottor Porlan in italiano tradotto e potete decidere perché comunque ci sono i livelli il primo livello Panda avete una settimana gratis quindi tutti i corsi per principianti comunque sono nel Panda che avete una settimana gratis voi potete decidere di fare l'abbonamento che costa 5 ore al mese quindi il Tai Chi per principianti tradotto in italiano con Dottor Porlan l'ho messo lì nel livello Panda però poi potete decidere di andare nel negozio perché comunque qua ci sono tutte le raccolte tutte fatte bene in ordine accademico di come iniziare perché questo è un ordine accademico come fare il Tai Chi quindi abbiamo la raccolta Tai Chi e Qigong in maniera accademica come una vera scuola quindi ho messo il Tai Chi for beginners per primo che comunque è la traduzione del CD originale che l'ho fatta per voi in esclusiva sul Patreon ed è molto importante ho fatto l'introduzione per adesso dura 10 minuti poi c'è il riscaldamento il warm up il fundamental movement e poi c'è il raffreddamento e farò anche la traduzione di questo e potete decidere poi dopo per una modica cifra di acquistarlo la traduzione comunque non il CD originale ma la mia traduzione potete andare sul negozio e la vetta per sempre cioè pagate allora con l'abbonamento potete accedere a tutte le cose per principianti le lezioni per principianti poi ho valuto il costo di ogni corso però se voi decidete di andare sul negozio è vostra per sempre questa su Patreon questa che metto il link sotto perché Patreon comunque permette anche a me istruttore perché sì io sono un mix di varie cose a me piace anche fare i video infatti qua io ho messo che c'è comunque il supporto livello supporto per YouTube che è quello base a base un euro lo facciamo se vi piace è il mio canale Expanded Impulse comunque quello costa un euro base se credete che i miei contenuti si meritano perché ci sono 17 anni io che faccio i video ho fatto la festicciola in live streaming due giorni fa sono contento 17 anni di video però siccome quest'anno 2024 è un anno speciale che è l'anno del dragone in Cina quindi più generosi quando c'è l'anno del dragone c'è più generosità in giro quindi voi avete per la prima volta nella storia il Tai Chi per la salute che io sto traducendo per adesso sto facendo la traduzione diciamo tipo le action cioè vedete a me e poi io faccio le pause e poi come parla lui il dottor lamp io metto la pausa e traduco ma sto pensando di fare una una traduzione professionale tipo doppiaggio però quella non lo so quando per adesso faccio la traduzione reaction cioè stop traduco e poi riparito è molto rilassante è molto divertente perché il Tai Chi è anche questo molto divertente fa sentire rilassati fa sentire più sicuri di se stessi poi è ottimo anche per l'autodifesa però anche divertente c'è un lato del Tai Chi sottovalutato cioè quanto sia divertente entrare nella barca del Tai Chi e farne parte e questa barca comunque continua negli anni io adesso ci sono 14 anni ci sono che ho iniziato nel 2010 fare il Tai Chi ci sono 14 anni quindi dopo 14 anni è sorta naturalmente perché nel Tai Chi non c'è fretta è come un fiore che sbuccia mi ha detto a me il maestro Roberto Cretti non devi pressare aspettare che il fiore sbuccia quindi è sbocciata questa traduzione ed è uno dei miei lavori che ne sono più orgoglioso comunque adesso ho anche un canale su Rumble dove sono facendo i live streaming e quei live streaming indimenticabili ragazzi se ancora non siete passati su Rumble passate X-Manet e mi posso Rumble perché è indimenticabile guardate e poi comunque cioè avete anche il supporto di un euro che comunque ci avete dei benefit ovviamente se voi entrate sul Patreon ci avete dei benefit che andiamo a scoprire che andiamo a scoprire comunque adesso voi facendo il free ci avete la traduzione in italiano voi se pagate 5 euro la potete vedere sempre però potete comprarla ed è tutto il percorso tu compri il corso del Tai Chi originale tradotto in italiano che poi io magari faccio il doppiaggio cioè io qua sto parlando di un lavoro fatto bene professionale che magari mi compra un microfono doppio i personaggi che ci sono nel video io sto pensando di fare una roba entri quindi ho bisogno di capire che gli interessa questo progetto perché comunque chiede tempo ed è male quindi non è che sto facendo la lemosina è normale che comunque gli interessa questo progetto chi ci crede vuole supportarlo anche con ogni campo quindi vi ringrazio ci vediamo al prossimo giro ciao